Ci stai Biagiantonacci e a questo punto qui in pausa pranzo con Nateria Saturnino diciamo buongiorno ai nostri ospiti Rosario Trezza, Marcella Troise e Dina Pagano buongiorno Buongiorno a tutti Ragazzi un buongiorno un po' più meno da lunedì forza riproviamoci buongiorno Buongiorno Rosario si è rifiutato di dire buongiorno No è storraffreddato lascio alle collaboratrici Alle dolci donzelle Incombenza Allora ragazzi facciamo un attimo le presentazioni subito Dina Pagano responsabile direttrice dell'Accademia dello Spettacolo Amore Psiche che si trova a Sant'Egidio del Monte Albino E perché siete qui ecco perché lei è qui in compagnia di questi due nomi e queste due facce che tra un po' vedrete pubblicate sulla radiobase fanpage Rosario Trezza che è il direttore artistico anche responsabile del centro studi delle arti e Marcella Troise che invece fa parte dello staff organizzativo Quindi Marcella quando si dice fa parte dello staff organizzativo significa che devi sostenere e sopportare determinate situazioni Rosario Esatto e con questo ci siamo intesi Quando si dice fare parte dello staff organizzativo vuol dire fare tutto e non fare niente comunque E ma no 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 assolutamente questa roba uomini contro donne che poi hanno da ridire sull'attività delle donne no anche no Rosario in quanto direttore artistico noi lasciamo intendere principalmente che cosa che siamo nel mondo dell'arte nel mondo dello spettacolo E parleremo di uno stage che è stato organizzato proprio presso l'Accademia dello Spettacolo Amore Psiche A questo punto vi chiedo avremo anche dei collegamenti telefonici parlo con te direttore artistico responsabile Parleremo con due personalità che voglio dire tanto di cappello che terranno questo stage che tra l'altro è aperto appunto alle iscrizioni di coloro che fossero interessati al tutto Vogliamo fare un attimo una panoramica perché ci saranno appunto questi artisti che vestiranno anche un po' i panni di docenti Ma più che docenti vestiranno i panni di traghettatori di anime dal punto di vista artistico Perché si sa che la recitazione oppure il canto o quant'altro non si insegnano proprio tra virgolette ma si trasmettono Sì sì partiamo allora un attimo facciamo un momento locale 24 novembre cominciamo a fissare la data Vabbè però era più appetibile partire dal nome dai diciamocelo No vabbè così sai noi siamo noi uomini siamo purtroppo metodici saltato quello saltiamo tutto 24 novembre presso l'Accademia dello Spettacolo Amore Psiche della carissima bellissima di Navagano Sì arriveranno prima di iniziare il loro tour con i promessi sposi opera moderna a Napoli al Palapartenope dal 26 al 29 novembre Vittorio Matteucci nella parte dell'innominato che abbiamo già apprezzato in Notre Dame de Paris di ricordi di Cocciante Esatto E poi anche successivamente in Tosca Amore di Sperato di Lucio Dalla Tanta roba esatto una carriera valida E Vincenzo Caldarola che vestirà i panni invece del conte Attilio e dell'avvocato Azzecca Garbugli Lui ha partecipato anche come protagonista sul musical di Padre Pio A Cotordè che qui in Campania ovviamente ha avuto il boom Esatto Lui ha vestito Anche come parte protagonista mi spiegavi prima Ha vestito i panni del protagonista In quel periodo c'era anche Adriano Di Domenico figlio di Enzo Di Domenico che è un nostro cantautore napoletano Edita una canzone Passione Eterna che conosciamo Sì Verranno a presentarci questo workshop in collaborazione con Gio Di Tonno e Graziano Galatone Perfetto quindi dei grandi nomi Un momento artistico di grandissimo livello Tutto questo presso l'Accademia dello Spettacolo Amore Psiche che si trova a Sant'Egidio del Monte Albino Ne parleremo anche dopo la musica Avremo anche collegamenti telefonici con gli interessati Hello Beyonce The Chorus con Radio Questa è la musica che state ascoltando in diretta sulle frequenze di Radiobase Siamo in compagnia di Rosario Trezza, di Marcella Troise, di Dina Pagano Perché? Perché parliamo di uno stage che si terrà il 24 novembre Giusto? Sì esatto Ecco Rosario a questo punto tra un po' abbiamo anche detto che ci metteremo in collegamento telefonico Sia con Vittorio Matteucci e anche con Vincenzo Caldarola Che saranno poi impegnati a Napoli al Palapartenope con i Promessi Sposi Quindi facciamo riferimento a nomi di grande spessore che cureranno appunto questo stage E vogliamo dare a questo punto anche Dina delle informazioni un po' più tecniche A chi rivolgersi nel caso in cui appunto si abbia questa voglia di provare questa esperienza Cioè quella di mettersi lì e dire ok io voglio fare questo stage con questi nomi Che è comunque tanto di cappello il musical Quindi parliamo di quello che è lo spettacolo per eccellenza Dove tutte le discipline si concretizzano e si concatenano l'une alle altre Sì allora praticamente possono rivolgersi a me, a Dina Pagano, sulla pagina Facebook mi troverete Troverete tutti i miei recapiti, a Rosario Trezza che troverete anche su Facebook Marcella Troise oppure venire in Accademia, Accademia dello spettacolo Amore e Psica St. Egido del Monte Albino in via nazionale 279 Perfetto quindi facendo tutto questo anche in maniera molto social Oppure recandosi in vecchio stampo nel luogo dove si terrà appunto lo stage Potrete avere tutte le informazioni di riferimento Tra un po' cominceremo proprio con il primo collegamento telefonico Nel frattempo a quest'ora si sa che arriva la pubblicità ma poi si ritorna in musica con Max Gazze Il gioco in egrita, 12 e 46 minuti sempre in compagnia di questo trio E naturalmente però a questo punto voglio parlare con Marcella Eh sì Marcella perché lo staff organizzativo Mentre eravamo qui proprio in diretta sono arrivate delle adesioni giusto? Sì, tre staggisti Ecco tre nuovi staggisti Come sarà organizzato il workshop? Ok si parte la mattina alle 9 Sì Con Graziano Galatone e Vittore Matteucci Che verranno appunto divisi in due alle differenti Proprio perché il loro comunque lavoro è un lavoro differente Ci saranno quindi 15 staggisti per Vittore Matteucci 15 per Graziano Galatone Si procederà fino alle 13.30 che poi facciamo la pausa pranzo E nel pomeriggio ci raggiungerà anche Gio di Tonno Magari chi lo sa alla fine della giornata riusciremo anche a strappargli una bella canzone Magari 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 Sì perché poi bisogna dirlo che questi workshop coprono un bel po' di ore Cioè quindi c'è un bel carico di lavoro da fare, da sostenere Dalle 9 alle 20 Esatto e questo è importante perché comunque dà la possibilità davvero di poter vivere a fondo Quella che è un'esperienza che dona molto dal punto di vista artistico e formativo Livello artistico formativo ma anche umano Perché più che maestri loro realmente fanno insegnare insegnamenti di vita Già il come stare sul palco è una cosa fondamentale Quindi loro se la giocano molto anche su questi insegnamenti che sembrano insegnamenti base ma che in realtà non lo sono Assolutamente perché danno la possibilità ecco già a partire dalla percezione della propria persona del proprio corpo all'interno di uno spazio Perché ecco lì siamo in evidenza come magari non possiamo farci caso nella vita di tutti i giorni ma nel momento in cui si è su un palcoscenico Si è in evidenza, si è sotto i fari, si è sotto i riflettori e quindi cambia tutto E essere padroni del proprio corpo e altrimenti non si può essere padroni poi della propria voce per cantare o recitare Esatto è tutto concatenato, legato e come diceva prima Vincenzo Caldarola c'è appunto dietro uno studio, una preparazione E quant'altro perché? Perché è necessario ecco abbandonare i nostri panni e vestire i panni di qualcun altro ed essere credibili in questo Questo, essere qualcosa che non puoi essere Esatto, andiamo ancora in musica con Uberphonic 1, 2, 3 Englishman in New York, Sting Anche Rosario Trezza stava cantando questo pezzo bellissimo di Sting e a questo punto ci resta sui saluti finali di ricordare la data del 24 novembre per questo workshop davvero di grande Con chi ne parliamo? Ecco l'ultimo, con Marcella, ecco sì Marcella, allora 24 novembre, i nomi? Vittore Matteucci, Giori Tonne, Graziano Galatone Ecco, per informazione? Per informazione allora ho il mio numero che c'è in Locandina o marcellatroisechiocciolalibro.it Perfetto, per prendere tutte le info a riguardo A questo punto puoi dare anche il numero in diretta qui a Radiobase perché così ti chiamano 339-3785-795 Perfetto, potete chiamarla per chiederle un appuntamento o per il workshop naturalmente Naturalmente A questo punto chiudiamo con il direttore artistico Rosario Trezza che ci voleva dire qualcosa Visto che avete detto tutto e anche ampiamente bene non mi resta che fare i doverosi saluti Innanzitutto vorrei spezzare un'arancia nei confronti di Anche un mandarino Che mo' ho sentito il nome d'arte di Saturnino Cioè mi rendo conto del suo operato e del suo lavoro che purtroppo senza di lui Non si muove niente Cioè mi rendo conto che chi sta nel dietro le quinte è quello che poi deve lavorare Allora smettiamola con queste belle presentatrici, con delle belle voci Con due donne che hanno parlato e pensiamo a chi lavora veramente Allora, amanti del mondo dell'arte, amanti del musico, l'amanti del teatro e di tutte le discipline artistiche 24 novembre, ricordiamolo, presso l'Accademia dello Spettacolo Amore Psiche di Dina Pagano Sant'Egidio del Monte Albino Prenotate per il vostro stage, per questo workshop che vi cambierà sicuramente l'esistenza Perché? Perché a contatto con dei professionisti il livello sale e l'orizzonte si allarga Ecco, vedete la romanticheria l'ho detta io Ragazzi, grazie mille per essere stati qui con me in diretta sulle frequenze di Radio Base Grazie a te Teresa Ci rivedremo sicuramente per uno dei prossimi eventi Nel frattempo, come sempre, io vi dico che qui la musica non si ferma mai Soprattutto di lunedì mattina quando c'è bisogno di una scrollata Farsi male